Siamo tutti ragazzi, siamo Laura e Roby, benvenuti in questo nuovo video. Quello di oggi è un video diciamo un po' improvvisato, un po' al momento, perché diciamo che... Cioè, ero proprio lì dove c'era la videocamera appunto, e stavo per far iniziare questo video. Io faccio un amore, ma, amore, ma lo sto registrando adesso perché... Abbiamo fatto due ciali. Abbiamo già fatto due challenge perché, almeno, siamo un po' sui video. Però ci siamo andati, ma sì, facciamo un piccolo aggiornamento sui vari argomenti che vorremmo portare a noi e che, appunto, magari vi possono piacere a voi. Allora ci siamo andati, perché non è il momento... cioè, ci siamo andati, ma è il momento dell'autoporre no. E quindi ci siamo andati, allora, proviamo. Quindi, appunto, per chiedervi, oltre appunto a cucina, video challenge... Eh, video sul caccio, che siano, ovviamente, partite, le rassi, ovviamente, non so, anche i vlog, che ho intanto portato ai vlog per vedere, appunto, cosa mi possono piacere. Poi, lo so, che abbiamo portato di alto amore. Poi, ehm... Cucina, challenge, vlog... Senti, ehm... Ah, ma adesso, se vi possa... se vi può piacere che mai, inizieremo anche a portarvi dei gameplay. Perché io ho messo in NetBear, o la console 1, ovvero le sugo su One S. Serebbe, però se vi interesse... A voi, se vi interessa, vi potrebbe piacere che io e mia moglie, quando ovviamente riusciamo nel bel tempo, facciamo il nostro... Cioè, registriamo i video delle partite, cioè, nel senso, facciamo un piccolo torneo. Nel senso, prenderemo un torneo di squadre, ormai, risalmente, inter-Juve, per esempio, interisti, cioè, lei è interista, io sono diventino, e ci sfidiamo un po' nelle varie, cioè, nel senso, caccia di inizio, nelle varie sfide, ci sono da falso FIFA. Oppure, se invece, ancor più bello, se, guardate, noi prendiamo un torneo di squadre, non so, tra testa, o quattro testa, facciamo, non so, quattro e quattro, finale, semifinale, finale, cioè, fateci sapere, appunto, un po', se vi possa piacere questo, questo tipo di argomento, appunto, di gameplay, però, appunto, lo diciamo. Allora, FIFA 22, la carriera allenatore, anche no, perché, non è che non vogliamo portarla, ma, ormai, diciamo, alla fine, cioè, nel senso, ormai, è, la stagione delle calci finita, quindi, apriva, ovvero, verso settembre, o anche ad agosto, cioè, arriva. 14 agosto, ricomincia la Serie A. E, quindi, arriva, ovviamente, FIFA 23, quindi, non è che possiamo fare la carriera allenatore adesso, per, magari, ad agosto, inizia, a, cioè, arrivare a FIFA 23, cosa, facciamo, tre partite, poi, per l'altro, sospeso, quindi, anche no. E, poi, ti vorrei, mi piace, davvero, tanto, guardersi, chi, appunto, di argomenti, eh, quelli che mi hai detto, i gameplay, scusate, che mi hai detto, lo trucerotto, i gameplay lì, che, comunque, se volete, che, appunto, vi piacciono, perché no, che ne avremo tempo, ci metteremo lì, e, poi, boh, nel senso, che, comunque, tutti gli altri, comunque, mi ha capito che vi piacciono, quindi, siamo felici. Esatto, perché, per le views, mamma mia, una maria, anche, l'altra volta, altri, di vedere, challenge al campietto, una maria, cioè, infatti, sono rimasti molto contenti. Certo, l'unico, diciamo, l'unico dispiacere è che, ci, un po', ci, non dico che ci fa fermare, perché, questo, anche no, anche mai. Però, c'è una, più, una cosa, che, a me, ci dà fastidio, appunto, che, i nostri video, sì, vero, fa, fanno tanti videos, perché, sì, vi, c'è. Perché, è la verità, si vede che, abbiamo tanti videos, ma è brutto, appunto, ragazzi, è proprio questo, che, iscritti, non salvo, sono i nostri video. Poi, noi, a volte, vi diciamo, volete dare live? Vi portiamo a dare live? Scegliamo un giorno adatto. L'ora. L'ora date, esatto, perché, ovviamente, sappiamo che, in quel momento, siete tutti in casa, in quel momento, magari, non so, magari, faccio un esempio, volete stare in casa per una live? Cioè, noi, lo sappiamo, e ve la mettiamo, cioè, nel senso, iniziamo a parlare live, e ve la portiamo. Però, a me, ci stavo anche per capire, il motivo, perché non vi iscrivete, perché, cavolo, anche l'altra volta, tanti videos, per, un cosiddetto del calcio. Sì, ma, adesso, adesso, è più di 90, eh. Ah, ecco, appunto, sai, mi dico, ma, perché non vi iscrivete? Cioè, nel senso, se a voi, mi interessa questo video, ok, ci fa molto piacere. Però, per favore, fateci, scriveteci, cioè, scriveteci nei commenti, quali altri argomenti dobbiamo portare, e, ovviamente, anche, eh, o, si dice, ovviamente, anche, eh, cioè, scrivete, perché, cioè, un click, dovete fare. E, un click, voi andate su, il nostro nome, iscriviti, e, attivate la campanella, ed è fatto, perché, appunto, ragazzi, fa male, comunque, vedere, ancora, 17 iscritti, o, quando, ovviamente, si salirà un po', si stoppa ancora, il, cioè, si fiorà ancora, poi, magari, noi, lo facciamo salire, cioè, per favore, veramente, iscritti, per favore, iscritti. Perché noi, scusa, non avete detto errore, anche perché, comunque, raga, più di, comunque, diciamo, far tirare la voce, io, comunque, le mie amiche, dalla fanpista, whatsapp, lui, essere amici, tutto, non dobbiamo più cosa fare, raga, quindi, se vediamo le visualizzazioni, ripeto, anche le percentuali sono, sono tante, quindi, ripeto, se vi interessano i nostri video, perché ne vi iscrivete? Cioè, lo so che le c'è detto lui, soprattutto, anche, le fatte da chi, che dà le percentuali, di, eh, di impressionamento, sono altissime, sono altissime, sono altissime, le views, sono quasi 400, totali, eh, sì, quasi 400, totali, mi sembra, 308, eh, 308, sono tantissime, però, guarda, tempo di visualizzazione, in ore, 12, cioè, 12 ore, sono tantissime, però, gli iscritti, cavolo, zero, cioè, troppo pochi, cioè, eh, cioè, non capiamo, veramente, eh, il motivo, da perché, non volete iscrivervi, cioè, magari, perché, magari, non so, eh, volete, altri argomenti, vi portiamo, però, se non lo dite, però, dovete, se non lo dite, dovete, scrivercelo nei commenti, dovete, veramente, scriverci nei commenti, argomenti, altri argomenti, che, poi, possono piacere, che, noi, eh, eh, registriamo, cioè, c'è, cioè, vogliamo riuscire sul calcio, non vanno le salizzazioni, perché, sì, le decisioni, hai qua per il falso, 20, 48, 11, mamma mia, cioè, però, eh, sono gli iscritti, ragazzi, che, confermi, capito, cioè, cioè, vogliamo, veramente, capire, volete, volete una live, ve la portiamo, facciamo una volta o settimana in live, ve la portiamo, no, basta, veramente, che, ci dite, il motivo del perché, il giorno, e anche l'orario, esatto, il motivo del perché non vi iscrivete, raga, perché noi, non ci sentiamo questa cosa, c'è, un sacco di gente che, ci guarda i video, ma non è iscritta, e noi, ci rimaniamo, anche ieri, cavolo, abbiamo portato la voce, ci hanno detto, eh, sì, dai, papini, uno ci ha anche detto, vi, eh, vi, cioè, se volete, vi do un po' di views, sì, grazie, cavolo, le views, ok, ma è, gli iscritti, vi interessa, abbiamo andato, raga, più di girare la voce, non possiamo far tanto, cioè, quindi, poi, noi, è vero, facciamo molta fatica a trovare l'argomento che vi possa facere a tutti, a tutti di sicilissimo, perché, è vero, noi, in questo momento, io e noi non lavoro, solamente hanno guardato il lavoro per trovare il nostro appartamento, ovvero, il nostro monolocale, che abbiamo oggi trovato, ci mandano, solamente che veniamo contattati dall'agenzia, per, appunto, poi, andare a vivere insieme, e da lì poi si inizia tutto, ovvero, video, esatto, perché registriamo tutti i giorni, e così via, però, cioè, per favore, ragazzi, scriveteci nei commenti i video da registrare, cioè, da portare, gli argomenti, e i giorni dei live, o se volete dei video in più, o dei video diversi, scriveteci, sì, vedete, però, noi non lo sappiamo, esatto, quindi, nulla, ragazzi, speriamo che, speriamo di essere stati chiari, e speriamo veramente che ci iscrivete, tanti commenti, perlomeno noi, capiamo, che tipo di argomenti vi possono piacere, oltre a quelli che già portiamo, e niente, ovviamente, ragazzi, di cuore per tutto, cioè, per tutto il supporto che ci state dando, perché non potevamo, veramente, ringraziare in una maniera differente, cioè, comunque, è diversa, e adesso, quindi, lasciate tanti like, tanti commenti, iscrivetevi, per favore, per favore, attivate la campanellina, condivete i link dappertutto, e adesso vi do, a un prossimo video, ciao!